Usciamo da due anni di pandemia drammatici, di emergenza sanitaria, economica e sociale e il Paese Unito oggi si mostra solidale, vicino a un popolo, a un Paese, a un territorio, quell'Ucraino, barbaramente ferito e lacerato da una guerra tragica, assurda e sbagliata. E quindi oggi qua rinnoviamo il senso di appartenenza a un grande Stato, a un grande Paese rappresentato dalle forze di polizia e dalle forze dell'ordine tutte che rappresentano il meglio, l'eccellenza, il punto di orgoglio e differenza del nostro Paese. I profughi dell'accoglienza come sarà gestito? Sarà gestito con senso di responsabilità da parte del nostro Paese. Chi scappa da guerre, da persecuzioni, donne e bambini, le immagini che vediamo dei bambini sono immagini drammatiche e devastanti. Il nostro Paese farà la propria parte, come abbiamo sempre fatto, mettendo a sistema quella rete di realtà locali, di volontariato del terzo settore che si metteranno ovviamente a disposizione con spirito di solidarietà, vicinanza e umanità. Sì, siamo in una nuova emergenza che è l'emergenza umanitaria e per il momento è una fase di ricognizione sul territorio, delle strutture che saranno poi utilizzate se necessario per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina. Per ora non c'è ancora questa indicazione. C'è stato qualche piccolissimo movimento di singoli che hanno raggiunto amici o familiari già presenti sul territorio, però siamo pronti ad accoglierli. Tante persone in Duomo per questa veglia di preghiera. Oggi lei pregherà nuovamente per questo mercoledì delle ceneri per il popolo ucraino. Adesso il tema però è quello anche dell'accoglienza. Sì, ma ci siamo già attrezzati sull'accoglienza. Siamo già in pieno contatto con la Prefettura per raccogliere come si deve. La Caritas è già mobilitata? La diocesi.